Buona giornata amici e bentrovati alla rassegna stampa di Fano TV. Oggi è giovedì 14 marzo 2024. Vediamo subito il santo del giorno e Santa Matilda di Germania, una santa moglie di l'imperatore. Quindi vediamo come tanti tanti santi, re, regine, principi hanno raggiunto la santità nonostante che avessero un ruolo di privilegio rispetto alla popolazione. Se però comunque mantenere salda la loro fede furono delle persone pie, si dedicarono alla preghiera, alla carità e quindi furono santificate. Non basta essere poveri per essere santi, insomma anche coloro che hanno disponibilità possono raggiungere il paradiso, secondo appunto il cristianesimo. Vediamo anche le previsioni del tempo. Oggi è un tempo assolato con al più nubi alte da metà pomeriggio. Valori massimi tra i 16 e i 20 gradi, la temperatura si avvicina a quella primaverile. 20 a regime di brezza sulle coste da sud-sud-ovest, nell'interno da sud-ovest, dicevo le temperature, la minima è 6 gradi, il mare è calmo, appena appena un po' di brezza, quindi qualche piccola onda. Il sole sorge alle 6.21 e tramonterà alle 18.11. Questo per quanto riguarda il nostro inizio. Ora possiamo dare un'occhiata ai giornali, aprendo questa mattina il Corriere Adriatico. Però io, eccolo qua, la pagina di Fano. La pagina di Fano, vediamo il resoconto del anno finanziario della Banca di Credito Cooperativo, un bilancio che si consolida sempre di più. La BCC infatti raddoppia gli utili. Impegno e concretezza sono le parole del suo direttore Falcioni. Sui numeri e iniziative, il 2023 chiuso con 10,6 milioni in cassa. Quasi un raddoppio l'utile, dunque, quando un anno fa il risultato d'esercizio aveva raggiunto i 5,9 milioni, quindi abbiamo su 6 milioni l'anno scorso oltre 10 quest'anno. Confermata dunque la solidità della Banca e la concretezza dell'azione quotidiana in favore dello sviluppo del territorio, ha detto il direttore generale Giacomo Falcioni, muovendo dalla presa d'atto che nel credito cooperativo gli utili vanno ad ingrassare il patrimonio. Ed è su quello che poi si misura la capacità di credito, la capacità di sostenere le aziende che chiedono mutui, che chiedono sostegni. Patrimonio netto che si attesta ormai sui 112,8 milioni contro i 105 della fine del 2022. Mentre anche il CET1, vale a dire l'indicatore della solidità riferito ai parametri dettati dalla BCC, fa segnare anche questo un progresso, elevandosi al 28,5% rispetto dal 28,5% al 30,9%. Quindi anche qui un significativo sviluppo, oltre 10 punti in più rispetto a 4 anni fa. Dunque vediamo come la Banca, che ha un solido radicamento al territorio, riesce sempre più a sostenere la nostra economia. A fondopagina vediamo un'iniziativa che è stata attuata nella caserma dei Carabinieri di Fano, allestita la stanza tutta per sé. Che cos'è la stanza tutta per sé? È un'iniziativa che ha realizzato il Soroptimis, il club di service che si occupa soprattutto di problemi femminili. Ebbene, in questo caso è stata allestita una stanza per accogliere le denunce di violenze su donne e minori. Quindi una stanza particolare, con un addobbo particolare, dove la privacy è mantenuta al massimo sistema e dove appunto le donne possono a loro agio esprimere tutto quello che sentono, tutto quello che provano e tutto quello purtroppo che hanno subito dai mariti o dai compagni violenti. E qua di spalla vediamo invece una bellissima iniziativa degli studenti del liceo Nolfi Apolloni, che frequentano il Battisti. Una raccolta di cibo, che è durata una settimana, ha coinvolto tutti i ragazzi dell'istituto, che hanno raccolto 15 pacchi ricolmi di generi alimentari a lunga conservazione. Pasta, scatolame, dove c'era tonno, dove c'erano dei cibi che si conservano, biscotti, insomma tutto quello che può durare a lungo per alimentare le famiglie che hanno difficoltà a mettere insieme il pranzo con la cena. Quindi una iniziativa di solidarietà che nobilita questi ragazzi, la cui iniziativa è stata spontanea, e hanno consegnato tutto al Fondo di Solidarietà di Fano, un fondo che opera insieme al Banco Alimentare, che ha una sfera d'azione piuttosto ampia, da Fano a Durbino, e che riesce appunto a contribuire in modo concreto alle necessità delle famiglie più fragili, delle famiglie più povere. Folla all'addio per Minardi. Vincenzo Minardi, il imprenditore che è deceduto domenica scorsa dopo una lunga malattia, ieri si sono tenuti i funerali nella chiesa di San Sebastiano a Bellocchi, una chiesa gremita, gremita di tanta tanta gente. E il Corriere Adriatico dice che più che per il valore dell'imprenditore e del costruttore di successo, il sentimento che ha pervaso l'Assemblea, che ieri ha partecipato al rito funebre, ha riconosciuto in lui il merito di una grande umanità, di un uomo buono, disponibile a sostenere tutti coloro che ricorrevano al suo aiuto. Ed è stata questa caratteristica del carattere, della personalità di Vincenzo Minardi che ha pervaso il sentimento di tutti coloro che hanno voluto dargli l'ultimo saluto. Quindi un uomo apprezzato dalla sua comunità. Ci sono anche diversi commenti pubblicati dal giornale, ne parla il sindaco Massimo Seri. Vincenzo Minardi era una persona per bene, ha detto un imprenditore galantuomo. E poi ancora abbiamo Paolo Andreani, anche lui un imprenditore di successo, dice che Minardi era un imprenditore dal volto umano, un imprenditore che anche se un suo debitore si trovava in difficoltà non lo poneva mai alle strette. Gli diceva, ah beh, se adesso non può pagare, pagherà quando ne avrà la disponibilità e non procedeva in nessun senso. E poi un bellocchiano, un uomo che ama la sua frazione, come Michele Brocchini ha detto che Vincenzo Minardi era un uomo che amava la sua terra e che è stato un cofondatore del paese dei Balocchi, allestendo all'inizio una grande mostra di fotografie che dimostrava, di fotografie che anche magari le persone ritratte non sapevano di avere e che dimostra appunto come fosse amante della sua terra. Minardi è stato poi seppellito nel cimitero di Bellocchi, nella tomba di famiglia, quindi ancora un ancoraggio alla terra che lo ha visto nascere. Cassonetti intelligenti, fare presto e bene, è il monito della Lupus in fabola che replica alle dichiarazioni del presidente dell'Aset, Paolo Reginelli, al convegno di circonomia. Per Lupus in fabola le rassicurazioni non bastano, bisogna fare di più, occorre anche che l'amministrazione comunale prenda di petto questa questione e incentivi la raccolta differenziata, d'accordo, ma anche tutto quello che dalla raccolta differenziata si raccoglie e si avvia al riciclaggio perché c'è sempre una certa differenza, un 10-15% che poi va a finire in discarica perché poi tutte le cose non sono così pure come dovrebbero essere, quindi si fa un appello anche all'utenza affinché la carta sia carta e non sia magari in mezzo alla plastica oppure viceversa che nella plastica non ci siano elementi metallici e via dicendo. Ed ora passiamo alle altre località e vediamo come si esalti nel Corriere Adriatico una ditta di Fossombroni. È l'impresa MEC che entra, MECAL, che entra nell'Olimpo delle grandi imprese per crescita di fatturato e dipendenti. Ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi. Si tratta di un'azienda il cui titolare è Stefano Paci, fratello di Paci della Profliglass. Ebbene al più grande produttore europeo di sistemi di raffreddamento in alluminio per l'industria dell'elettronica di potenza con volumi di produzione di circa 9.000 tonnellate è stato attribuito un bel riconoscimento. L'Istituto tedesco Qualità e Finanza nella sua graduatoria a Campioni della Crescita ha posizionato MECAL che si tratta di un'azienda di Colli al Metauro con uno stabilimento a Fossombrone tra le magnifiche 800. Quindi una graduatoria a carattere internazionale è veramente importante, un bel riconoscimento per un'azienda del nostro territorio. A Cartoceto si sta riqualificando il cimitero, si stanno realizzando 40 nuovi loculi. Il Comune di Cartoceto rende noto che proseguono i lavori di riqualificazione della struttura con l'obiettivo di un graduale miglioramento delle opere esterne ed interne e dell'ampliamento delle strutture esistenti. Sta per essere avviata la costruzione di 40 nuovi loculi a cui ne eseguiranno altrettanti al fine di rispondere alle esigenze appunto del territorio e di tutto il Comune. E c'è un problema, un problema per il sindaco Antonio Sebastianelli lo vediamo qua in questo articolo. Ebbene, sembra che al sindaco Antonio Sebastianelli sindaco di Terre Roveresche sia imputata l'accusa di aver asfaltato una via privata e c'è una condanna, avrebbe falsificato una delibera Aspetto le motivazioni, dice Sebastianelli ma sono tranquillo Una via privata asfaltata a spese del Comune e il sindaco finisce a processo con l'accusa di falso in atto pubblico Ieri c'è stata la sentenza e c'è stata anche la condanna e gli strasci che potrebbero non essere finiti Ebbene, il capogruppo di minoranza Maurizio Cionna aveva presentato una interrogazione per chiedere al sindaco, appunto, particolari intorno a questa delibera una delibera che la minoranza contestava perché, insomma, non sembrava che fosse corretto che il comune pagasse l'asfaltatura per una strada privata Ebbene, il sindaco ha replicato dicendo aspettiamo le motivazioni della sentenza e proponiamo un appello Quello che dice la sentenza non ci appartiene sono a posto con la coscienza ha detto Sebastianelli parliamo di una delibera di classificazione delle strade in vigore dal 1996 quel tratto è stato sempre mantenuto a spese del Comune e sono tranquillo vedremo appunto come si evolverà questa vicenda per Antonio Sebastianelli vediamo ora la pagina di Senigallia dove si parla ancora di violenza nei confronti delle donne mi denunci, non vedrai più tua figlia minacciata e violentata dal compagno si tratta di un incubo per una donna una mamma 26enne che è stata veramente maltrattata anche fisicamente da parte del compagno vivendo un inferno lei in casa l'inferno ha dichiarato il trentenne il compagno già condannato per abusi nei suoi confronti è stato chiesto un anno e quattro mesi per maltrattamenti veramente un incubo durato due anni denso di aggressioni vessazioni fisiche, psicologiche insomma alla fine la donna non ne ha potuto più e quindi è stata si è rivolta al tribunale diffamò l'ex presidente dell'Anconitana punizione leggere un libro di Madonna Marconi offeso da un tifoso reato estinto se recensirà le mele del signor Pibodi sull'arma della parola ebbene anche la lettura di un libro può così essere un diciamo così una condanna in realtà non è una condanna perché è una riedificazione in coloro che hanno commesso qualcosa che non andava bene e vediamo qui in questa fotografia Stefano Marconi Stefano Marconi offeso da un tifoso comunque il reato è estinto se appunto leggerà questo libro e imparerà qualcosa bene questo per quanto riguarda il Corriere Adriatico abbiamo anche la pagina che riguarda Pesaro dove c'è una grossa novità per quanto riguarda Piazza del Popolo non basta la biosfera ora arriva anche un bosco urbano un bosco urbano che cammina sembra di essere la selva di Macbeth che avanza che cammina e che travolge in questo caso non travolge perché è un simbolo della sostenibilità dell'ambiente della tutela dell'ambiente quindi è una bella cosa prove generali in centro storico per il bosco che cammina ad ispirazione olandese parte integrante della programmazione di Pesaro capitale della cultura natura della cultura e le it motive dell'anno quindi anche un bosco in piazza del popolo a Pesaro e beh riferimento a Macbeth ci voleva proprio allora passiamo al resto del Carlino dove ci sono altre notizie diverse Megaiotte domani in transito tutti i limiti ebbene la cantieristica a Fano è un settore in grande sviluppo l'imbarcazione che ora passerà e che raggiungerà il porto è lunga 42 metri per 8,50 di altezza con uno scafo con uno scafo largo 8,50 l'altezza è 8 metri e troppi ostacoli al passaggio e ancora questa strada delle barche che poi è piccola la strada delle barche non è una strada che possa portare agevolmente tutte le grandi imbarcazioni verso il porto di Fano attraversando Viale Adriatico la strada delle barche è semplicemente una tratta che attraversa la zona del bersaglio la pista dei go-kart fino a raggiungere Viale Ruggeri e poi proseguire verso Viale Adriatico ma Viale Adriatico è anche una zona di parcheggio ci sono le auto c'è il traffico e poi d'estate non ne parliamo perché lì poi è una zona balneare ricca ricca di persone e di animazione dunque è un passaggio straordinario annuncia oggi il resto del Carlino un passaggio straordinario nel cuore della città alle 11 di domani mattina quindi attenzione tutte le auto devono essere rimosse non possono parcheggiare se qualcuno poi la lascia lì vedrà la sua auto rimossa forzatamente allora partirà dalla zona industriale di Bellocchi per passare in Via Roma Viale Gramsci Viale 12 Settembre Via Cavallotti Via Le Battisti dove i trasportatori si dovranno districare tra i lavori in corso insomma non è facile perché Via Le Battisti è in pieno del suo lavoro di ristrutturazione e poi vediamo la finanza da Santin sono venuti ero chiuso ebbene replica il ristoratore che è stato scoperto dalla finanza senza essere noto al fisco il ristoratore dice che non è lui l'evasore ma svela io le tasse non le pago perché non le devo pagare non guadagno e sto solo sopravvivendo riapro il 23 perché devo fare dei lavori di manutenzione che avevo sempre rimandato sto restringendo il bar ebbene ieri non si parlava d'altro in città si voleva sapere chi fosse quel ristoratore che era sconosciuto al fisco ora il nome viene pubblicato si tratta di Stefano Gaggia titolare del ristorante La Bracceria da Santin è chiuso dopo che i controlli della Guardia di Finanza hanno completamente riconosciuto che insomma lui le tasse non le pagava e quindi era sconosciuto al fisco anche se non era indicato il suo nome sui giornali che ieri hanno riportato alla notizia diffusa dalle fiamme gialle le fiamme gialle quando fanno un comunicato generalmente non mettono i nomi a cui si riferiscono rifiuti il comune promette ma rinvia sempre e la nota di lupus in fabula che replica alle dichiarazioni del presidente di Asia Paolo Reginelli e poi abbiamo anche sul resto del carlino il bilancio della banca di credito cooperativo un utile da 10,6 milioni di euro la raccolta complessiva dei risparmi ha raggiunto quota 1 miliardo e 374 milioni con un aumento come abbiamo visto del 5,3% ebbene in questo contesto la banca di credito ha potenziato l'attenzione verso gli investimenti nel territorio in modo particolare anche nelle opere di sostegno alle associazioni alle iniziative che si realizzano nel territorio di sua competenza verso le associazioni culturali sportive del terzo settore fa beneficenza sponsorizzazioni e contributi le erogazioni l'anno scorso hanno sfiorato i 700 mila euro ebbene il bilancio del 2023 verrà illustrato il 12 maggio nell'assemblea dei soci al teatro della fortuna l'assemblea che si tiene ogni anno con l'approvazione del bilancio e anche una iniziativa che permette ai soci sono tantissimi i soci della banca di credito cooperativo di Fano di conoscere più da vicino la banca e magari di intervenire con i loro suggerimenti per cercare insomma di indirizzare la politica finanziaria in un modo o nell'altro sindaco condannato per una delibera falsa anche il resto del calino da ampio risalto ai problemi di Antonio Sebastianelli a cui è stata inflitta una pena sospesa però per di sette mesi di reclusioni lui io sono innocente ha dichiarato ricorrerò in appello non c'è una prova l'atto giustificava l'asfaltatura di una strada privata ecco le dichiarazioni del sindaco a fondo pagina a cartoceto avviata la costruzione di 40 nuovi loculi nel cimitero è una iniziativa importante perché per una comunità poter così riposare nella propria terra dove una persona è nata e vissuta è importante essere così trasportati in una struttura anonima magari lontana con qualche disagio anche per i parenti non è una cosa che soddisfa coloro che abitano nelle piccole comunità abbiamo visto anche a Bellocchi nel cimitero di Rosciano Bellocchi come la gente tenga affinché questo cimitero abbia una capienza giusta per soddisfare le esigenze del territorio vediamo alla pagina di Urbino la città lavori per diventare appetibile è il presidente del tribunale di Patria Massimo di Patria che dice serve un tribunale più attraente per il personale i nuovi magistrati abitano a Pesaro ebbene Urbino si attrezzi anche per quanto riguarda il suo ruolo di città di provincia capoluogo di provincia per avere tutte le attrezzature tutti i servizi necessari per mantenere poi i servizi ai cittadini ritrovato un laghetto nell'ex fornace Volponi il comune è in procinto di fare formalmente l'acquisto del complesso industriale siamo sempre ad Urbino ma intanto arriva una prima sorpresa una volta risistemata l'area diventerà un motivo d'attrattivo dibattito sull'utilizzo per quanto riguarda questa nuova riserva d'acqua questo nuovo laghetto un laghetto anche per passare un pomeriggio oppure una mattinata in un ambiente sereno e bello da vedersi voti senza fare l'esame professore sotto processo un'ex studentessa a Urbino afferma mi ha dato 28 basandosi su un lavoro di gruppo non mi ha interrogata il docente Emanuele Russo ha ammesso alcuni fatti la storia arrivò in procura quando una ragazza scrisse su Facebook come funzionava l'esame ebbene dobbiamo dire che anche negli anni 70 c'erano questi esami di gruppo all'università si studiava tutti insieme qualcuno studiava qualcun altro non studiava e poi magari si dava l'esame in maniera collettiva si interrogavano due o tre quattro persone e tutti gli altri poi avevano lo stesso voto questa volta non funziona più così ed ecco perché insomma c'è stato il processo ormai siamo in conclusione voglio notificarvi anche le notizie di Pesaro del resto del Carlino si parla della variante di Soria c'è stata finalmente quella assemblea di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi ritiratela subito dicono i residenti o sarà guerra via Caboto deve rimanere aperta i residenti non ne vogliono sapere di poter di dover approvare questa variante un'assemblea infuocata quella di ieri sera con i residenti in rivolta contro l'assessore della Dora quindi molto molto determinati a far sì che la variante non si faccia e con questa notizia noi terminiamo la nostra rassegna stampa dandomi come sempre un appuntamento a domani alle 7 e intanto vi auguro una buona giornata a l'esentirci a l'esentirci Grazie a tutti.